vaccini e abbiamo voluto in qualche modo capire qual è la domanda più frequente che gli italiani si pongono rispetto al vaccino. Allora lo vediamo con il cartello 4 e la prima domanda, vedete, viene citata dal 43% delle persone interpellate, ma siamo sicuri che questo vaccino non faccia male? Ricordiamo anche i sondaggi delle scorse settimane, questo atteggiamento di cautela, di prudenza, di attendismo rispetto agli effetti del vaccino e poi la seconda domanda è non vedo l'ora che arrivi il mio turno, quando potrò farlo anch'io? 34% e corrisponde grossomodo alla percentuale di coloro che nelle scorse settimane avevamo visto vogliono vaccinarsi senza indugio, non appena il vaccino sarà disponibile. Poi un 15% si pone questa domanda, ma perché? Ma come mai è possibile che stiano facendo già in Gran Bretagna i vaccini in Cina e in Russia e gli Stati Uniti e noi no? E poi l'8% invece non si esprime. E poi ancora due domande.